E se ci pensate, non andare a voto per difendere la democrazia è un controsenso incredibile. Se noi vinciamo gli europei e non scioglierà le Camere napolitano, che è un Presidente politicamente indecente, devo mettere politicamente, se no vengo accusato di vilipendio, noi gli chiederemo gentilmente di scendere a Roma in un milione, di circondarlo in quel denaro, circondarlo facilmente, di circondarlo e di chiedere a gran voce, di sciogliere le Camere di indire nuove elezioni politiche. Ma questi sono capaci davvero di dire se il Movimento 5 Stelle dovesse vincere e ne vincerà le europee, di dire per difendere la democrazia non si può votare per i prossimi 25 anni. Sono capaci di farlo, li vediamo in faccia, sono capaci di tutto. Questa è gentaglia, lì in Parlamento c'è la gente che sa, o magari anche responsabile, che sa, degli omicidi di falcone porsellino, gente che sa chi ha fatto la trattativa statomacchia, metteteveli in testa, questo è l'ambiente che noi frequentiamo quotidianamente. Questo non è facile vedere la Sant'Anchete, i giorni, quando viene, gaspare, non è facile, aiutate, non è facile. Penso e concludo veramente che abbiamo tutti gli elementi informativi, la rete, stiamo nelle piazze, andiamo anche in televisione, c'è Luigi De Maglio che è eccezionale, poi io preferisco stare nelle piazze, sugli scivoli, dovunque, perché mi sento più me stesso qua, perché in televisione non è facile, mi viene l'elicrisi di ansia il giorno prima, cioè non è facile quel meccanismo, mi inquadrano mentre mi gratto, mentre mi cavano con il piazzino, mia madre mi dice che piazzine ti sei messo dove mette degli altri piazzini, perché funziona tutto, è terribile, non è facile il sistema dell'elicrisi, è costruito apposta per fottere l'inesperto. Poi io ci vado, ci andrò, però preferisco stare nelle piazze, però stiamo dovunque, dovunque, ci potete trovare dovunque, basta che iniziamo pure a disprezzarlo, sto divano, sto telecomando e a scendere a riprenderci luoghi pubblici come questa piazza, si sta molto meglio se ci risentiamo pochi, abbiamo tutti gli elementi per poter cambiare una visione, chi lo vuole fare, lo fa, chi non lo vuole fare, logittimo, come disse Dante, che è il caso di un pensumano di anche a se stesso. Grazie a tutti, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah non lo so, c'è Repubblica che dirà sicuro che questo scivolo è abusivo, io ho sempre qualcosa con le vostre strutture. Prego. Grazie.